Per Notizia Abruzzo siamo in compagnia di Silvio Paolucci, ex Assessore della Sanità regionale, attualmente responsabile e capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. Allora lei in questi giorni ha lanciato critiche, proteste e iniziative contro la Giunta Marsiglio. Ci può fare e ci può spiegare, a mettere un po' in ordine tutte queste critiche? Intanto noi abbiamo chiesto chiarezza per quanto riguarda la gestione e la governance del Covid. Abbiamo chiesto tutti e sette i consiglieri di opposizione del centro-sinistra la riunione urgente di una commissione sanità perché il 29 di settembre l'Assessore Verici aveva dichiarato che tutto era in regola, che la programmazione andava avanti, che tutto reggeva e poi nel giro di 24 ore due comunicazioni totalmente discordanti. Il 31 ottobre ci comunicano che l'Abruzzo regge, il primo di novembre è anche in questa giornata, che invece gli ospedali sono pieni, che c'è una fila che non è in grado questa regione più di assorbire. Ecco perché chiediamo immediatamente chiarezza, numeri certi, verificabili e credibili e se il programma e il piano messo in campo sin dall'estate annunciavano che eravamo la terza regione in Italia a vederselo approvare, è davvero operativo e purtroppo non ci risulta. Ci sono anche i risvolti economici poi che lei ha sottolineato negativi per la regione Abruzzo e per i cittadini e le imprese. Sì, noi chiederemo un incontro urgente con le parti sociali perché il governo regionale è un governo che non dialoga, che utilizza e strumentalizza la parte ovviamente sofferente collegata alle misure anche economiche che impattano perlomeno con l'economia verso il governo nazionale, che poi è l'unico che almeno alcuni provvedimenti gli ha messo in campo e peraltro quelli del famoso decreto ristoro dovrebbero arrivare anche con una velocità e anche il nostro auspicio più significativa rispetto a quelli di primavera. Nel frattempo però invece il cura Abruzzo 1 e 2, non c'è traccia di quei trasferimenti. A parte le risorse e le famiglie, le imprese non è arrivato nulla e dei 134 milioni di euro annunciati appena 10-12 sono stati effettivamente erogati. È un governo regionale, questo guidato da Marsilio, che è molto alieno rispetto alla realtà della nostra regione, che da un lato lascia in coda per le vaccinazioni sull'influenza, i tanti anziani e le tante famiglie o per i tamponi e i drive-in, dall'altro ovviamente strumentalizza molto la politica nazionale col governo nazionale e alle imprese non dà un euro. Lei è anche ex assessore regionale della sanità. Come giudica le iniziative attuali della regione Abruzzo in campo della sanità? Purtroppo, come già si diceva, abbiamo chiesto una riunione urgente, vogliamo dare il nostro contributo, non vogliamo urlare, ma non possiamo sottacere che c'è un grande problema. Le file delle persone presso i drive-in per i tamponi di ore, le morti per i quali abbiamo chiesto un'inchiesta che hanno attivato dopo nostra sollecitazione a Avezzano con le persone che purtroppo sono morte fuori dal pronto soccorso perché non accettate dentro e vogliamo capirci di più. Ma l'incredibile storia dei vaccini per l'influenza. Siamo stati, è vero che è un tema nazionale nell'anno Covid, ma siamo stati l'ultima regione in Italia ad avviare le procedure per l'acquisto in quanto siamo stati l'ultima regione d'Italia a dire qual era la quantità da acquistare. Il risultato è che se uno vuole farsi il vaccino oggi in Abruzzo per l'influenza nessuno lo riesce a fare. È molto molto grave e quindi vogliamo sapere se dietro le chiacchiere, prima della campagna elettorale, poi degli annunci, degli innumerevoli tavoli e dopo le parole dell'Averino in un senso e di Marsilio in un altro, qual è la verità? E vogliamo dati veri, tracciabili e verificabili. L'EPD ha posto i problemi anche sulla tenuta dell'economia regionale. Per quale motivi e dove, a giudizio di Silvio Paolucci, questo tema è più impellente e urgente? Già si diceva prima che il cura Abruzzo 1 e 2, quella montagna di risorse che venivano nella giunta precedente, hanno semplicemente rimodulato le risorse della giunta d'Alfonso, di 134 milioni di euro non si è visto traccia per quanto riguarda il trasferimento effettivo alle nostre comunità. Aggiungiamo che siamo tra le ultimissime, se non l'ultima regione in Italia, per alcuni versanti e alcuni assi di spesa proprio l'ultima. siamo al palo, ripeto, sull'utilizzo dei fondi europei. È gravissimo, non si capisce di che cosa davvero si stia impegnando il governo regionale se non al debito fuori bilancio per il Napoli. Abbiamo detto che la convenzione era illegittima, il risultato è stato debito fuori bilancio, che per norma andrà al prossimo Consiglio. Nel frattempo la spesa dei fondi europei è al palo e le risorse per le imprese, zero. C'è un tema che a lei è molto caro, che è quello della, parliamo in questo caso di Silvio Paolucci, che è un esperienente del Partito Democratico. Lei è tornata a fare la politica in una vecchia maniera, cioè incontrare i circoli. Perché c'è questo bisogno così diretto della presenza dell'uomo politico sul territorio? Avere a che fare direttamente con gli occhi e volti delle persone dei problemi delle nostre comunità. Ne registro tantissime, molte sono utili anche a sollecitare il Governo regionale a introdurre alcune novità. Quando abbiamo voluto, per esempio, immaginare la proposta, stiamo sul tema della sanità, dei tamponi o dei test rapidi e dei test presso le farmacie, era un qualcosa che veniva dalle tante immagini, dai tanti incontri o dai tanti video, nelle file inaccettabili che viviamo nelle nostre strutture. così come aver registrato del Curabruzzo 1 e 2 non si è arrivato nulla, non è soltanto un fatto contabile che abbiamo registrato in Regione, ma un fatto che abbiamo toccato con mano incontrando piccole imprese, cittadini e ovviamente altre imprese che ci dicono ma di quei soldi che ci erano stati promessi a marzo-aprile non abbiamo avuto traccia. Così come allo stesso tempo il tema della cassa integrazione per la quale abbiamo battagliato anche nei mesi scorsi è perché incontravamo persone che ci chiedevano anche a mensa, a me hanno chiesto, per piacere, ma la questione della cassa integrazione ho fatto domanda, hanno fatto domanda a marzo, perché non l'ho vista e sono passate settimane? Tutta questa roba qui nasce da un'interlocuzione quotidiana e credo che sia il modo migliore per poter rispondere e soprattutto prendere e portare le istanze della gente e dei cittadini. Infine Chieti, il sindaco Diego Ferrara si è insediato quando era candidato è stata una sua proposta ne è soddisfatto e quali auspici fa per il sindaco Ferrara e per Chieti? Intanto sono molto soddisfatto di un cambiamento di metodo radicale inclusivo, disponibile a parlare con le persone lo slogan della campagna elettorale Parla con me che ha contraddistinto la sua vita professionale è oggi un modus operandi nuovo dell'amministrazione comunale L'altro tema è fare chiarezza sul disastro contabile, economico e di debiti che l'amministrazione di Primio lascia purtroppo alle spalle alla nuova amministrazione di Diego Ferrara Si giocherà attorno a questo metodo e alla voglia di immaginare una nuova visione per quanto riguarda la città ma soprattutto di coinvolgere gli attori di quella città anche la ripresa economica, civile e ovviamente del tessuto sociale della città di Chieti Grazie a tutti